Scalasau Mettila per favore Visto che stai vicino a Martina Veneziano Che sarà appunto La ragazza che ti accompagnerà O che comunque tu poi accompagnerai Sul palco Ma le stai insegnando Non so la barzelletta, la battuta Sì no intanto c'è una commozione iniziale Perché oltre ad essere una bella ragazza Già promuovo insomma il suo nome Martina Perché mio padre si chiama Martina Quindi appena ho sentito Si chiama Martina Veneziano Ho detto vabbè si chiama come papà Papà si chiama Martino No 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 Martina C'ho papà che si chiama Martina Tra l'altro c'ho mamma che è veneziana Però lei mi ha detto che è di Milano Quindi ho detto anche che mia madre è di Milano Tra l'altro Antonella qui è di Grotta a Mare Di San Benedetto C'ho mamma che è di Giù Insomma quindi Mamma è di dovunque voi siate E voglio ringraziare Chi mi dà la possibilità di essere qui Il portiere dell'albergo Ti ha dato il pass Senti Massimo ma questa Martina Cosa stai scoprendo di lei? Non parliamo della cosa fisica ovviamente Ho scoperto una grande sincerità Ma rimesso Ci ho sempre avuti però con i piedi per terra Perché da lontano una sua amica ha indicato Vedi tu sei abbinata con Massimo Bagnato E l'ha fatto ma chi è? Quindi c'è una volta che ti fanno così Niente C'è un senso paterno Perché poi ho saputo di avere 23 anni più di Martina Io che mi credevo Fischello Cioè 23 anni posso essere papà quasi nonno Vabbè quasi nonno no Martina scusa ma che ti ha insegnato fino ad ora Massimo Bagnato Niente Ma Massimo la devi provare La devi preparare per lo spettacolo di stasera Sganastato 2012 La decima edizione importantissima Stavo conoscendo ecco Sì Ho capito se andate di sto passo però Non le insegnerai una barzelletta neanche per le due di notte Nel frattempo mi hanno messo un pezzo di melone ciancicato in mano Che io poggio Faccelo vedere Non lo so eccolo qua Ah no è uno spiedino ecco Sono stati carini Però dicevo che insomma Piazzale Loreto Insomma c'ho mamma che è di Piazzale Loreto Ma che c'entra Piazzale Loreto? E poi non sembra Una cosa che abbiamo in comune è che lei sta studiando Ragioneria turistica E tu? No io sono diventato ragioniere ma dopo sono passato alla Cepu Subito dopo perché insomma Mi sono laureato in storia della Playstation E con il turismo che c'entri? No col turismo niente perché c'ho mamma che è di tutti i luoghi Quindi lei mi dirà come insomma promuovere i luoghi di appartenenza di mia madre Ah a proposito saluto i miei genitori In particolare mia madre e mio padre Non so se vuoi fare qualche saluto Sì saluto i miei genitori, mia sorella e i miei nonni Ciao Beh un saluto particolare ai nonnini Vi capisco io presto diventerò uno di voi Noni colleghi Molto presto visto l'età Grazie Massimo Bagnato e Martina Veneziano Grazie, grazie a voi Ciao